Bella raga, io sono Khaled e benvenuti su RapTop Oggi parliamo di una delle notizie più calde della scena rap italiana Il prossimo album di Sfera e Basta Sembra che stia per arrivare e abbiamo anche alcuni spoiler interessanti Specialmente riguarda un possibile featuring che hanno già fatto impazzire i fan Prima di tutto, segnatevi questa data, il 13 novembre L'album sarà probabilmente annunciato durante l'evento speciale Sfera e Basta Special Night Quindi tenetevi pronti per un'esplosione di nuove tracce da parte di Sfera Ma veniamo alla vera sorpresa di oggi Uno spoiler di Anna che ci ha dato una piccola anticipazione del suo coinvolgimento nel progetto di Sfera Nel video Anna ha rilasciato la sua strofa e i riferimenti a Sfera sono chiari Si come Cini e il Money Gang finale lasciano pochi dubbi, il feat è praticamente confermato Diamo un'occhiata alla strofa di Anna, è davvero strong, con una potenza che ha già fatto impazzire molti fan Ma ciò che ci chiediamo è se questo è solo l'inizio, sarà solo una delle tante collaborazioni? Le aspettative sono alle stelle e l'entusiasmo per il prossimo album di Sfera è palpabile Non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserva Sfera e Basta Special Night E se Anna sarà effettivamente parte di questo nuovo progetto Ricordate di lasciare un like se siete pronti per questo nuovo capitolo Ed iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità Grazie per esserci stati e ci vediamo al prossimo video su Raptor